Salve a tutti amici sportivi e bentornati sul canale Loverigno con The Binding of Isaac Afterbirth con il buon vecchio Kane che tra l'altro se vi ricordate è il mio personaggio preferito non mi ricordo che avesse questa roba gialla sulla gambetta però vabbè ho appena letto che per questo gioco è previsto un DLC con un editor di livelli e se dovessero fare una roba del genere anche per Playstation 4 sarebbe una gran bella cosa intanto iniziamoci la nostra partitina in mezzo alle merdine un soldo un soldo da 5 e anche dai e anche una stanza misteriosa pregate per me un Tampax usato tra l'altro ok questo deve essere il coso di virus qualcosa coli si 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 che trasforma in merda tutti quelli che mi toccano non che sia molto molto utile molto bene sono tutto ricoperto di merda come potete vedere con mia grande soddisfazione e felicità Larry Junior e anche con la felicità di Larry Junior dai vermaccio schifoso adesso mi sente meglio tra l'altro lui è anche un gran cagone dai schifo oh schifosissimo bastardo opa 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 dai 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 che ci sei morto dai che sei morto vai non farmi perdere tempo tra l'altro non abbiamo ancora fatto una boss rush ragazzi neanche una piccola boss rush abbiamo fatto ve lo dico e divento anche più grande chi è? ciappati questa secondo livello del basement malli così non paro uscire i ragnetti che non mi servono in questo momento ecco ragnetti grazie la coccarda che non mi questo è fichissimo però no non ho i cosi non ho le bombe cavoletti quanto danno faccio a proposito vabbè è ottimo la coccarda non la prendiamo non la prendiamo anche perché ci aumenta ecco i boss e fa diventare tutto champion dai tu sei un povero cretinetto oh però mi ha regalato un cuoricino e la luna e vabbè ma dammi il tempo di scappare però scusa eh antipatico abbiamo una chiave abbiamo una chiave eh no eh no eh no io devo cambiarla questa roba non mi piace cambia che cacchio è la torta la torta pasqualina qua hmm rainbow effect ah guarda che roba guarda che roba guarda che roba ogni colpo è diverso ogni colpo è diverso meraviglioso non sappiamo mai cosa stiamo per sparare oh ah oddio ce n'è una ferma ce n'è una ferma in mezzo a nulla è strano è strano è stranissimo una esplosiva pure eh non lo so se mi ha fatto se mi ha fatto benissimo a prenderla sta roba oh oh eh mi sono fatto male porco giuda porco cane sì bene non è che mi servisse tantissimo eh questa cosa qua però vabbè eh bombe ne abbiamo no ne abbiamo solo una dingo la cacchina brufolosina dingo non è sentito oh guarda che bello guarda che bello no no quelli sono fichissimi oh oh alcuni alcuni spari sono fichissimi ragazzi no ve lo volevo dire bello bello sono tutto e la madonna ma che partita è cosa c'è qua dentro oh dammi una roba figa no non c'è roba figa qua qua c'è la troia di babilonia se non erro e quel pupazzino lì che spara sangue ok la troia di babilonia non mi piace e allora ce ne andiamo con tutti i nostri cuori vermiciattoli verminosi slow ma come si è diventato piccolissimo la soltavia farò diventare piccolissimo che sballo però qua non c'è la strada giusta che cercavamo noi non mi chiedere come ho fatto a sorpassare quel punto aia ah no ho camminato su quella roba no colpa mia colpa mia quando è colpa mia è colpa mia ed è sempre colpa mia oh cavolo eh eh cosa devo fare spara 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 ok ok ora non stai bene benissimo ho un cuoricino per ricompensarci oh oh ma questa è un'ottima cosa la velocità questa roba qua si speed range up e vabbè e vabbè e vabbè basta che non diventiamo troppo veloci perché anzi mi sa che siamo già al limite della velocità si 4 io ho più di 4 di velocità gioco male oh 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 dai oh oh e allora raga vogliamo morire o no oh una chiavetta presto presto oh 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 no il ragno rosso che spara spara le robe brutte me lo sono me lo sono pappato eh cuori cuori a non finire non ho capito cos'è quel colpo con che ha una specie di aura intorno comunque è bellissima quella quella lo sparo che si gonfia oh oh è bellissimo lo sparo che si gonfia distrugge tutto pregate per me che ci sia un bello oggetto mi ripresi un due chiavi che è già tantissima roba considerate che poteva non esserci una beata minchia ma figlio di ma figlio di non mi è arrivato adesso ed è stato trasformato in una merdina pop pop tac tac e dai uno sparo decente una volta devo spaccare le merdine andiamo mega questo questo è brutto questo fa male non essere così non fare così non fare così ma si arrabbia si arrabbia aia bastardo ha dovuto farmi del ma oh il coso mutante HP up tantissima roba abbiamo 5 cuori cazzo c'è la maledizione abbiamo 5 cuori e siamo in anticipo su una tabella di marcia comunque molto meglio questo piuttosto che il il course quello quello che non si vedo niente ok il blind bom aia voilà scappa 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 bene bene un po' di soldini per anche per fare delle donazioni comunque perché bisogna migliorare il no lo sparo esplosivo in bocca tutto retino eh no non è che potevo saperlo io comunque e vi stavo dicendo che oh guarda cosa c'è qua che devo fare anche dei versamenti per migliorare il negozio perché non è non è un granché non è il massimo insomma ok no eh cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare fanculo mi hanno fatto malissimo questi tre ragnetti di merda andiamo a vedere qua qua eh grazie ah però c'è anche mmm mmm questa qua mi serve perché mi conservo i cuoricini e intanto verso sto ragnetti livello 1 va là quando c'è pochi soldi te ne fa mettere a profusione quando c'hai tipo un dollaro basta due cose si blocca oh ti ho ripicciolito un moschino a mordina eh e ora te ma le cose ma te lo scappi beccati questo andiamo subito a fare un versamento un versamento finché non si blocca a 30 niente 36 monete siete tutti testimoni che io ho pagato 36 monete eh eh sì eh sì ma non è che si può anche perché questi spazi sono imprevedibili questo non ci frega cioè che frega me più che altro bon eh di qua per me tu dovrebbe avere pochissima vita come ho fatto a farmi male io vorrei sapere come ho fatto a farmi male come ho fatto a farmi male comunque non abbiamo ancora ma diciamo cuori scena eh sì ma come cazzo chiudiamo non chiudiamo più ehm il fatto che la nostra borracciola dei cuori non sia ancora piena ci dice che non abbiamo ancora tutti i cuori cioè non siamo ancora in perfetta salute ma abbiamo preso noi ops soccannato eh no abbiamo ancora trovato la stanza con con il tesoro non l'abbiamo ancora trovata bisogna cercarla assolutamente senza il tesoro noi non siamo nulla esplodi buon 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 dai 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 muorici 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 perfetto cuoricione oh adesso sì che siamo belli pieni monster tears bomba ce l'ho meno male vieni qua ah no hai un becco fioreno mi sono fatto fregare che fessi d'argile cioè non è la prima volta che mi frega è questo non è la prima volta che mi frega e mi lascia l'amare in bocca anche perché lacrime giganti sono super pro the stain l'ho già fatto the stain che non mi ricordo se non l'ho mai fatto the stain ah spari come era il corazzone di mamma eh pum 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 volevi fare il galletto con me con il tuo sparo da cretinetti hai visto dove sparo io che raggio ciò potentissimo che raggiungo in lontananza chiunque comunque cosa oh no no mi prende eh mi prende brutta merda oh 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 e ti sei fatto anche male stupidino speed up no la speed up no beh 4 4 di speed va bene dai siamo sempre in anticipo sulla tabella di marcia anche se non di tantissimo di un pochino ma si i mini i mini scappa presto dobbiamo arrivare in tempo ne ho abbastanza dai non sperchiamo anche di bombe ne ho tantissime però in realtà no 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 scappa cosa sono le forbici le forbici forse le avevo già prese più scatter una roba per le bombe secondo me oh no basta e allora crepate così non sei ancora morto devi proprio rompere i coglioni fino alla fine oh basta ok va bene va bene lo faccio perché mi voglio fidare allora innanzitutto qua i due di cuori item multiplier si 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 cuori cuore profusione però mi facciamo anche una bella roba scappa no non ti voglio a te brutta merda no però scusami cacchiarola come faccio a prendere quello senza prendere quell'altro scappa e me lo lascio indietro adesso ce la faccio ok ce l'abbiamo fatta the moon item multiplier non lo so 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 proviamo a usare the moon no in qualche modo mi sono fatto del male non mi chiedete come però c'è un sacco di cuoricini qua questo qua non mi serve questo qua l'ho preso questo qua l'ho preso quattro non so massimo quattro il massimo è quattro va bene il massimo è quattro fuori no eh che sbatta però eh con voi è sempre così niente mostri mostri innamorati beh però due secondi ho fatto un gran male se riuscissimo a trovare uno sparo decente eh ogni tanto perché il problema è che noi facciamo sì 5 di danno ma con questo sparo che non si sa che cosa esce fuori però ogni tanto ogni tanto è carino ogni tanto fa piacere questo sparacchiotto eh non vedo la necessità di spendere 3 dollari per quella quella roba lì in compenso abbiamo boh la batteria non lo so che cosa che cosa fa bene la batteria va ad essere una roba in base al cioè che che ha effetto sul ehm sulle item con con la barra dell'energia no noi abbiamo invece il vasetto che tiene i cuori si fermerà 49 50 eh non so cosa sia there's options mi sa quello che forse ci fa scegliere due due cose dunque non siamo stati giù a destra no big mistake oh ridammelo pit multiplier porco tutto dai 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 ok perfetto no ma come ha fatto a prendermi ma come ha fatto a prendermi da lì ma non è vero che mi ha preso ma dai ma non è assolutamente vero è una menzogna è una vile menzogna schifosa ma non l'ha trovata la stanza lì però eh quanto vi ci vuole per morire quanto vi ci vuole per morire c'era se non lo becco però oltretutto diventa ancora più difficile ma non l'avevo ancora presa quella scusate ma non l'avevo ancora trovata quella stanza qua magari bello questo la merdina no la merdina non la voglio perché a me questa roba qua mi piace questa qua delle delle forbici vediamo il danno grande danno ragazzi mi dispiace ma purtroppo dovete morire voi i vostri colpi psichici di merda io voglio sapere come faccio a farmi male delle volte cioè veramente mi arriva il danno e non so che cacchio sia si capisce non si capisce allora eh sì ne abbiamo già e questo è così poi questa ce la facciamo e abbiamo un po' di tutto un altro cuoricione no ho sbagliato va bene non possiamo più prendere prendere niente va bene va bene va bene ma tu sei il bambino delle chiavi ma io non te le do le mie chiavi bastardo tre le do le mie chiavi ammazzati mostro due eh vedi vedi cioè non si sa veramente non si sa da dove arriva da dove arriva questo danno non mi chiedete non mi chiedete perché non si capisce ho capito il colpo esplosivo ma ragazzi cacchio mi sto non si capisce niente non si capisce più niente anche di questa va bene va bene va benissimo adesso mi hai fatto arrabbiare e adesso caro mio mi hai fatto arrabbiare tesoro ok e uno è morto e oh madonna oh madonna 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 che danno questo qua dobbiamo fare un danno pazzesco con questo fungo qua non so perché non è aumentato siamo assolutamente in mega ritardo sulla tabella di marcia siamo a 20 minuti e 24 perciò niente boss rush aia va bene altri oh cacchio bella storia piano zio perfetto oh brutti brutti voi siete brutti ho sempre paura di parli male da sopra questa è la cosa che mi fa impazzare parli male da sopra vabbè però dai vabbè però dai poteva essere peggio eh mi doveva prendere perché fanno degli spari che non si sa da dove cacchio vanno poi ce l'ho pure dietro la schiena via lo fa oh oh aia e e e e e si ha insanguinato tutto cosa bisogna fare e e e e e e allora basta ma non muore non muore cioè cosa ho fatto non si sa ma non ce la prendiamo non ce la prendiamo a me quella roba lì mi sa tanto di porcheria quella chiave lì ma tutto questo finché li accetti la 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 ma 68 abbiamo fatto abbiamo fatto una grande opera caritatevole a sto giro bomba e magari che cacchio il 2 di clubs subito 32 bombe ammazza oh oh bastardo eh bastardi muori porco allora però aspetta però aspetta perché io faccio una bella roba allora facciamo così così e così boh non so che cosa ho fatto ma ho fatto qualcosa la signora mamma subito farmi una bella solo ancora ancora stiamo stiamo di stare in mezzo faccio male da soli ma non è sempre il proprio possibile e voglio farà furbetta boom 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 noi sono scaltro e agili come una faina la sono cavicchiata dai dai altri cuoricini per me e via devo dire che finora non sta andando malissimo dai dai perfetto di bombe ne abbiamo direi più che a sufficienza attacso di cose qualsiasi cosa via e mi sono fatto male ancora oh se voi sapeste quanto mi sta sulle palle questa cosa che mi faccio il danno da solo cioè sono pieno di cuori pure vabbè dai ma che cazzo che cos'è ma che cos'è una cassa nuova ma io non l'ho mai vista questa cassa qua io non l'ho mai vista questa cassa qua ho paura non lo so direi che possiamo provare ad aprire abbiamo un cuoricino là sopra cacchio abbiamo il cuore il cuore è nero però è seccante magari dopo dai magari dopo mi va via il cuore il cuore nero tanto qua mi pare questa cassa dai 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 che ce la facciamo opa stavo stavo considerando che quando hai bisogno di fatti del male sei invulnerabile nessuno ti fa male oh qua ci faranno male sicuramente infatti 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 ci hanno fatto male tantissimo possiamo andare ad aprire la nostra cassa aia cuore vaffanculo va andiamo su e però è figo perché troviamo un sacco di cuori un sacco di cuori oh dritti ah che cosa sei ma spari anche oltre che essere brutto come la merda spari anche ti vergogni esponi pezzettini di carne non so perché non gli ho mai lasciato gli hanno mai lasciato vivere così tanto tempo adesso giinguata morire questa senza spine cuori ancora profusione oh cacchio fortissimo sono fortissimississississississi merda ma guarda ma guarda che disastro guarda che da oh purtroppo quando quando viene colpita da quella lacrima che si ingigantisce ed esplode per qualche motivo non riesco più a sparare ecco mezzo cuoricino poteva anche non non servisiva qualche roba 18 cuori rossi questa è la partita dei cuori rossi sono talmente tanti non me ne preoccupo neanche non me ne preoccupo neanche andiamo a prenderci tutti questi bei cuoricioni tanto ormai opa anche se perdiamo un po' di tempo, pazienza tanto la boss rush l'avremmo anche comunque superata da un pezzo adesso ci dovrebbe essere l'ultimo guarda qua sotto oh cacchio forse mi sarebbe più importante porco tutto non muori la mano della scimmia niente mano di scimmia no no che si esplodono tutti fanno un danno che me frega tanto siamo opa siamo pieni di tutto bellissime cose sì prima prima facciamoci il boss mister fred mori fred mori fred adesso cominciano a sparare le sue pallette di merda signor fred io c'ho un tiro omicidiale da lontanissimo che mi scopri ma secondo me ne scopri uno nella schiena fuori nero ma signor fred non è morto ah sì fred è morto ma non è morto quello soldi soldi vi sembra uno che ha bisogno di soldi evidentemente sembra proprio uno che ha bisogno di soldi e di un cuoriscino nuovo e di un cuoriscino nuovo ragazzi ma non c'è niente via questo è il livello dove c'è il cuore della mamma credo che qui in là di così noi non ci possiamo andare per curiosità aprierei anche questa oh porco giuda tutto che sfiga no 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 sì sì dai abbassati via vabbè dai non era non è stato niente male non no cacchio no non possiamo vedere la nostra vita dobbiamo fare conto che abbiamo di cuori morto e stramorto non mi ricordo quanti cuori abbiamo quanti ne eravamo 5-6 non me lo ricordo cacchio non me lo ricordo proprio facciamo conto 6 qua male ma vuoi morire o no oh cavolo oh cavolo oh cavolo oh cavolo morite sono odioso odiosissime proprio anche scappare ah no ho uscito delle stanze indietro non mi servono questi non mi servono quelli ah ecco ecco hai visto cosa è successo allora praticamente quando guarderete il video la terza la terza mina era una troll bomb ha fatto due lampeggini ed è diventata una bomba normale questo deve essere merito di queste forbicine che ho raccolto ovviamente oh come che non è morto quello non mi fa esplodere ok vediamo se c'è qualcosa di interessante chariot no due di spades two of spades two of spades questo libro qua io non è che mi ricordi benissimo oddio allora quello quello rosso cos'è che ci dava non era il libro il libro delle ombre ma in ogni caso a noi che cazzo ce ne frega se abbiamo aspetta cos'è questo qua ce l'ha sì sì questo piglio dico a noi che cosa che cosa ci interessa perché abbiamo il cosa il vasetto quattro abbiamo ancora tutti i nostri ma abbiamo il cuore nero anche noi abbiamo anche il cuore nero sarà lui a dirci quando siamo al pelle con i cuori rossi ok allora quello di prima era il livello dei cuori questo è delle bile cacchio in una cosa così stretta con queste merde scutacchine dai ok uno è morto eh muoreci bastardo cacchio non voglio nemmeno morire resti aspetta mamma mia con tutto questo danno non riesco dai 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 oh oh beh beh non ho perso niente allora ancora questi ci sembra che mi ha sentito ci dicevo che mi stanno sul cazzo dai vieni fuori e sbuca sbuca scottine tre piccole muori ah non so più perché se sbaglio a sparare cioè non è che sbaglio a sparare ma mi esce tipo un colpo aspetta però ma io basta qua ahia bastardo perché ahia ok perché se mi esce un colpo esplosivo quando sono vicino al muro poi mi faccio male mi incazzo come una bestia eh sì 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 via scappa e adesso manchi solo tu oh 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 in mezzo son passato va che culo oh e una e ahia merda merda che peccato che peccato cominciamo a pensare di essere bugato sinceramente perché non arrivavano mai i danni e invece e invece i danni sono arrivati bomba esplosiva ah ecco volevo ben dire volevo ben dire allora tu qui e tu qui regalatemi una sorpresa no va bene ragazzi questo credo sia l'ultimo boss il cuore della mamma più in là di così non potremo andare bisogna batterlo nove volte ancora non l'abbiamo fatto ahia dai ragazzi dai quattro cuore mi hanno fatto già eh non va mica benissimo non va poi benissimo aia e il cuore mezzo muorici 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 questi mostri di merda merda non riesco a capire quanti cuori ho un danno un disastro è un massacro cacchio un soldino cacchio ti manca pochissimo per morire bastardo oh lei ce l'ho fatta cacchio al momento ci resto secco everything is terrible fammi prendere un po' di cuore che non si sa ma cacchio 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 mi sa che per oggi è tutto grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo episodio di The Building of Isaac ciao qui è un'altra